Prima sessione, parlerà prima il collega Luca Volpe che è presente il nazionale Giovami che è una costola dell'Ami che appunto è composta dai giovani della nostra associazione. Detto questo passo la parola all'amico e collega Luca Volpe. Grazie, grazie a tutti, buongiorno, benvenuti. Io prima di iniziare questa breve relazione, visto l'orario però, vorrei credervi un convinto appassionato, forte applauso per due persone straordinarie, che sono il magistrato Valerio De Gioia e l'avvocato Gianetto Legassani, che stanno portando fino in fondo una vera e propria missione, che è quella non solo di far capire quali sono le problematiche inerenti ai casi che poi rientrano nel cosiddetto codice rosso, ma soprattutto di divulgare e arrivare alla gente attraverso tutti i sistemi di comunicazione. Quindi io faccio un accordo grazie e spero che tutti voi vi uniate ad un applauso veramente forte e convinto. Verrebbe da dire in questo vuoto della politica, in questa società, un po' alla deriva, veramente grazie più che altro di esistere oltre a quello che fate. Di che cosa stiamo parlando da questa mattina con riferimento... Di che cosa stiamo parlando da questa mattina con riferimento alla rete? Abbiamo sentito una molteplicità di illeciti, sia di natura civile che di natura penale. Stiamo parlando di un fenomeno abbastanza recente, che è quella della divulgazione particolare del fenomeno internet in mano alle persone, che non aveva mai visto prima vedere una così tanta potenza in una mano di un singolo cittadino. Forse i numeri ci possono aiutare. Oggi al mondo siamo circa 7 miliardi e mezzo di abitanti, circa 4 miliardi sono connessi alla rete. Se immaginiamo le zone povere del mondo, praticamente tutti coloro che possono avvicinarsi a un dispositivo elettronico è connesso in tempo reale alla rete. In Italia sono 42 milioni gli utenti connessi ai social network. La fascia di riferimento più importante è quella tra i 15 e i 35 anni, a seguire quella tra i 35 e i 45. Questo dato lo dico immediatamente per capire quale possa essere quindi la portata nuova della diffamazione. Ricorderemo che la diffamazione nel nostro paese è praticamente sempre esistita, se è vero come è vero, che la ritroviamo addirittura nell'ex Cornelia de Iuris, quindi nel tempo dei diritti romani. Era un illecito civile più simile all'ingiuria che alla reale, attuale diffamazione. E poi è più conosciuta sicuramente da tutti noi la diffamazione classica che andremo a vedere. Oggi la diffamazione sui social network diventa uno straordinario strumento di cui il Presidente Cassani lo sa, io addirittura sono stato vittima di un collega che aveva pensato bene a un certo punto di alzarsi tutte le mattine e attraverso profili falsi, diffamazione, ingiurie, reiterate, un vero e proprio stalking mi aveva preso ad oggetto, poi per fortuna ha cambiato idea. Cosa accade a livello psicologico? E qua io faccio, oltre all'applauso, una richiesta a voi due che siete, oltre ad essere due ottimi giuristi, secondo me siete anche due intellettuali. Beh, se noi come AMI da anni abbiamo deciso e abbiamo sottolineato l'importanza della psicologia, io credo che il legislatore debba incominciare a inserire la psicologia in tutte le istituzioni e a inculcare, scusate il termine un po' inviolento, in tutta la gente l'importanza e il ruolo che la psicologia deve avere. Perché nell'analisi di queste tipologie di reati che oggi ci hanno occupato è inevitabile non notare che è l'elemento psicologico di persone che sono in difficoltà e non parlo solo delle vittime, ma parlo anche di coloro che perpetrano questi illeciti, che sono in grande difficoltà. Scriveva in un best seller uscito qualche anno fa, si leggeva oltre a sottolineare gli aspetti positivi dell'uso dei social network come svago, come piacevole modo per stare in contatto, l'autore scriveva per molti infelici invece Facebook è proprio tutto, è un pagliativo contro la noia, è contro il non vivere, un'arma per mandare messaggi in codice, per dare lezioni di vita, molestare, minacciare, stalkerare, manipolare, spiare, diffamare, diminuire, infangare gli altri, offrire alibi per i propri fallimenti o attribuire al prossimo la casa dei propri mali, o per dare sfoggio di profondità d'animo e altruismo scrivendo frasi meravigliose, preferibilmente seduti sul water. L'autore era il noto avvocato Giannettore Cassani. Come nasce? Cercherò di dare spunti di riflessione perché parlare dopo il professor Mazza e parlare di penale diventa per me un esercizio quasi impossibile, quindi farò un'altra cosa, analizzerò in maniera molto breve, state tranquilli, qual è stato l'escursus che ha portato la giurisprudenza a incasellare la fattispecie astratta dell'articolo 595 nei fatti che si stavano verificando, quindi i primi principi teorici e poi leggeremo insieme in maniera veramente molto veloce qualche sentenza della Suprema Corte, andando a guardare poi però anche l'attuazione pratica, cioè che cosa si può fare, quali sono i rimedi immediati attraverso gli stessi social o immediati attraverso il ricorso alla giustizia. Tutto nasce, la prima volta che qualcuno si preoccupa di capire il fenomeno internet nella sua estrinsecazione antropologica e anche giuridica, pensate un po', è stato un giornalista del Corriere della Sera, si chiama Gian Guido Vecchi, che scrive che il mondo di internet, siamo nel 1995, io sono connesso a internet praticamente da sempre, ricordo di aver fatto i miei primi accessi nel 93-94, l'Italia come al solito è arrivata tardi anche nell'accesso a internet, nel 95 questo giornalista scrive sul Corriere della Sera che dal suo punto di vista il mondo di internet poteva essere, potesse essere equiparato del tutto a una vera e propria piazza virtuale, è la prima volta che in Italia si parla di piazza virtuale, perché ve lo dico? Perché poi cosa accade? Non succede nulla nel mondo del diritto, che come ci conforterà il magistrato De Gioia, è un mondo un po' lento per diversi motivi, non solo perché la macchina della giustizia è lenta, ma anche perché la giustizia arriva sempre dopo che il fenomeno culturale, il fenomeno antropologico, il fenomeno sociologico si verifica nella società, perché poi viene portata l'attenzione di noi avvocati, attraverso qualche avvocato finisce in un tribunale e la sentenza probabilmente della Suprema Corte che statuisce un principio è ovviamente spostata nel tempo, per ovvie ragioni al di là della lentezza della giustizia e quindi accade che il primo caso nel quale si parla di piazza virtuale, finalmente anche la Cassazione parla di questo, è un caso del 2004 che non riguarda affatto la diffamazione, ma riguarda un caso che sarebbe stato successivamente etichettato di atti persecutori di stalking, ma che all'epoca era soltanto un problema di molestia ai sensi del 660 del codice penale, sostanzialmente era successo che un giornalista, oggi diremo stalkerava, dava una collega, la collega faceva la querela, ovviamente la querela si risolveva in un nulla di fatto perché il giornalista pagò un'ammenda di 516 euro, così come previsto da quel reato, che era uno dei grossi problemi poi dal quale è nata la norma sugli atti persecutori e quindi la questione si chiudeva là, però fu l'occasione appunto per la Cassazione perché tutte queste molestie si eseguivano sul noto social network Facebook e quindi la Cassazione ebbe modo di statuire che Facebook in realtà altro non è che una piazza virtuale, da lì dal mio modesto punto di vista è passata questa similitudine quindi come principio della Cassazione che ha una funzione nomofilattica come sappiamo, diventa equiparabile dal mio punto di vista ogni cosa che può accadere per strada, che può accadere nelle nostre vite in maniera reale è del tutto equiparabile a qualcosa che può accadere nel virtuale. Andiamo avanti, l'altra sentenza storica sempre della Suprema Corte è una sentenza che riguarda proprio la diffamazione a mezzo Facebook, ricordiamo che la diffamazione è quell'atteggiamento di colui o colei il quale parlando, dialogando, comunicando con altri dice la norma, va a ledere, va ad infierire, va ad incidere in maniera negativa sulla reputazione di qualcun altro. L'altra sentenza che vi dicevo molto importante è una sentenza del 2016 perché nel 2016 finalmente, e con l'Avvocato Cassani ne parlavamo anche con riferimento a fatti personali di cui vi accennavo, finalmente viene riconosciuta l'aggravante di cui al numero 3 che è l'aggravante che era prevista dalla legge, appunto dal codice penale che riguarda in quel caso il mezzo di pubblicità o il mezzo stampa o il mezzo televisivo, perché ricordiamo che prima dei social network, secondo me questa è la grande differenza, la diffamazione a mezzo stampa, cioè la diffamazione peggiore, cioè quella che ci può rovinare di più la vita, esisteva ma era delegata a pochi. Oggi chiunque si può sentire giornalista, chiunque può distruggere qualcun altro perché ce l'ha in mano. Ha in mano uno strumento che è la vecchia televisione che oggi sono diventati social network e se diventi un minimo famoso, io nel mio piccolo a volte mi stupisco perché ho una pagina Facebook oltre il profilo che mi dice che quando pubblico delle cose ci sono 20-30 mila persone che le hanno visualizzate e quindi questa cosa è una cosa che tra l'altro mi preoccupa e anche quando vado perché faccio della semplice divulgazione attraverso questa pagina che è avv.lucavolpe, io addirittura penso e medito vario tempo di come intitolare quello che sto scrivendo perché mi preoccupo del fatto che ci sono 30 mila persone che potrebbero essere in qualche modo condizionati da quello che sto dicendo. Non mi dilungo troppo, quindi più o meno è stato questo l'escursus che ha portato dai principi generali della piazza virtuale e dall'applicazione del numero 3 anche ai casi di diffamazione sui social network, passando velocemente in maniera molto rapida perché credo che poi tutti noi riusciamo attraverso delle approfondimenti ad arrivare al caso specifico che probabilmente viene sottoposto al nostro studio, i rimedi. Secondo me ci sono oggi e vanno anche suggeriti in via di consulenza ai nostri assistiti almeno tre grandi vie di rimedi. La prima è quella di contattare i social network, i network stanno cambiando, Facebook ha capito che con la violenza, con la diffamazione, con le molestie non si va da nessuna parte, parlo di Facebook come social di riferimento anche in Italia, anche se chi mi ha proceduto ha fatto bene a sottolineare che Instagram e anche Twitter a livello del mondiale sono anche social forse anche più grandi in certi sensi di Facebook, pensiamo che con Twitter si può dialogare con tutto il mondo, con Facebook si arriva alla cerchia o alla cerchia della cerchia delle nostre amicizie, con Twitter potenzialmente si potrebbe anche dialogare con il capo di stato americano piuttosto che brasiliano se solo avesse la bontà di condividere o commentare un nostro tweet. Quindi le potenzialità dei social sono veramente infinite, i rimedi secondo me sono tre. Il primo è quello di contattare il social network, la gente lo fa ancora molto poco, parliamo del 10% di quelli che si sentono vessati capiscono di segnalare il profilo, il commento o quant'altro al social network, io lo faccio spesso e devo dire che funziona, addirittura arriva un feedback di risposta dopo qualche giorno perché c'è qualcuno che analizza il post, spesso io lo faccio per post e commenti che dal mio punto di vista incitano all'odo razziale che è un'altra cosa della quale bisognerebbe preoccuparsi molto spesso e devo dire che Facebook mi dà sempre grandi soddisfazioni, rimuove quel post, mi ringrazia e poi mi chiede anche se sono soddisfatto del servizio che mi hanno prestato e devo dire che sono spesso molto soddisfatto. Quindi prima via anche da consigliare alla persona offesa come prima naturale reazione ad una offesa e credo che sia quella anche perché è un modo per elidere, fermare gli effetti del reato che è un reato che ha effetti permanenti perché se il post rimane lì continua a diffamare anche nei giorni successivi. La seconda via è una via secondo me di natura civile, così come la diffamazione classica, a me è capitato di assistere qualche persona nota in passato che scegliesse più che altro la via del civile nella diffamazione, è un illecito ai sensi del 2043, quindi rientra nella grande famiglia del Nenmi e Nennerledere e spesso se la persona che ci offende è anche una persona facoltosa, io avevo un cliente che mi diceva sempre, avvocato speriamo che mi diffami anche domani perché mi ricordo si pagò la campagna elettorale con questa cosa e gli andò abbastanza bene, anzi lunga vita mi diceva il diffamatore perché così mi sta foraggiando le mie campagne elettorali. E l'ultimo rimedio ovviamente è quello della denuncia, della querela, non voglio fare brutta figura con l'avvocato Cassani che dice che il civilista deve sapere anche di queste cose, quindi parliamo per una parte, la parte della diffamazione che io chiamo classica di un reato a querela, nelle sue aggravanti peggiori nell'ambito del terrorismo, dell'associazione di stampo mafiosa può diventare anche d'ufficio ma sono ovviamente casi veramente marginali e rari nelle nostre vite quotidiane, quindi si può fare una querela, ovviamente sappiamo tutti che la querela va fatta entro tre mesi dal momento in cui in questi casi secondo me non viene commesso il fatto ma si ha la percezione della commissione del fatto da parte della persona offesa perché io posso essere stato diffamato il primo gennaio ma essermene accorto soltanto qualche giorno dopo e quindi probabilmente è da quel giorno che io sono nella possibilità poi di fare una querela e la competenza in alcuni casi, nei casi più classici ma sui social non si verifica è quella del giudice di pace invece della competenza per quanto riguarda la diffamazione sui social network passa al tribunale monocratico perché interagisce l'aggravante di cui vi parlavo prima, di cui al numero 3. Ultima cosa di chiusura ovviamente ci sono tutte le sfaccettature che il codice penale offre, pensiamo al concorso di reati e quindi dal mio punto di vista è colpevole l'amministratore di un gruppo, pensiamo per esempio all'amministratore di un gruppo Whatsapp, anche Whatsapp è un social network, non dimentichiamolo mai, oggi credo che sia molto più pericoloso quello che accade su Whatsapp rispetto a quello che accade su Facebook perché c'è un senso di intimità, c'è un senso di amicizia, c'è un senso di fratellanza diversa come se fossimo un gruppo di amici storici tra i quali si può dire qualsiasi cosa, ogni tanto faccio notare a qualche mio assistito o assistita che in realtà in quel gruppo ci sono 100-150 persone che a loro volta possono divulgare il messaggio e quindi anche le potenzialità. Si poneva un problema se il soggetto il cui onore veniva leso, bravissimo L'ha risolto la Cassazione il mese scorso, l'ha detto? No, è molto bravo, è molto bravo, è bravissimo Mi raccomando Carmine per la registrazione me la fai avere, la Cassazione nel 2019 qualche mese fa ha statuito, c'era il problema della presenza perché ricordiamo nella diffamazione classica il reato va perpetrato almeno nella presenza di tre persone in assenza del diffamato Il senso era quello che il diffamato non si può difendere davanti a queste persone Anche perché adesso da quando l'ingiuria è stata decriminalizzata il rischio è che non si integrasse alcun tipo di reato, nel senso io parlo male di uno presente in quel gruppo al più può conseguire il pagamento di una somma di denaro come sanzione pecuniaria civile Quindi era un dettaglio di non poco conto e poi la Corte di Cassazione stava dicendo La Cassazione ha chiarito che è talmente lesivo ed è talmente invasivo ed sono talmente alte le potenzialità che Whatsapp ha di divulgare il messaggio a terzi che la presenza del diffamato all'interno di un gruppo non è rilevante. Chiudo davvero ricordando proprio in riferimento a questo cosa si potrebbe fare? Beh sappiamo per certo che anche lì la Cassazione sia in sede civile che in sede penale per esempio ha statuito che gli screenshot hanno valenza probatoria Io personalmente li uso spesso in questi casi sia in sede civile che in sede penale magari accompagnata anche da una testimonianza che vada a rafforzare la importanza dello screenshot cioè di persone che sono all'interno delle chat o dei social network e poi magari sono le stesse che ci hanno avvisato degli effetti diffamatori di quel tale messaggio del quale non c'eravamo accorti. Concludo con una con una frase che invita all'attenzione alla riflessione all'utilizzo degli psicologi e quant'altro si possa fare in questa materia. Noi oggi di social network ormai viviamo 24h ma facciamo attenzione perché Tiziana Cantone ci insegna che purtroppo di social network si muore. Grazie